dove ho mangiato? dove ho mangiato non ho mangiato ma mi trovo a Salerno un albergo con vista sul mare mi hanno accompagnato a condividere con voi queste meraviglie e lassù al di là di là di quel montaggio ci abbiamo Napoli e invece la nostra direzione è giù si dice Salerno Reggio Calabria e noi alla Reggio Calabria andiamo per sbarcare poi in Sicilia Grazie